filmando attenzione pistone bloccato nooo! il patra la pistola bloc, bloc ta confine un ciclo complet ora sta scoppiando vai vicino dall'altra guarda qui c'è l'altra filmami l'altra filmami l'altra no ma c'è ancora dell'olio forse va lubrificato vi dici un po' di... vi dici un po' di... di luci da cruscotto la soluzione è questa dashboard cleaner luci da cruscotto per una fluida di manica che schifo attenzione si vedi già che gira più forte eh no c'è solo il compressore mi si troppo bene ma si troppo un po' di olio guarda qui guarda qui guarda qui guarda 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 puoi stoppare ma c'è sta qua che fa... ma c'è sta qua che fa... ma c'è sta qua che fa... quindi... ma c'è ancora che fa...